Oggi mi dice al telefono l'amico Amos Vitato, uruguagio, ho salutato questo 25 aprile dei poveri che è il nostro 4 maggio 2020 con un urlo liberatorio. Mi sono levato dal letto nella fase 2 e ho gridato il mio nome con tutta la forza. La gatta incinta del quartiere mi ha miagolato in risposta, anche lei contenta di non essere lasciata sola al sole. Ho fatto colazione cantando bella quarantena ciao e quando mi sono sciacquato la faccia allo specchio come Fabrizio Corona prima di essere scarcerato ho visto per l'ultima volta una faccia color bistecca andata male tant'è che quando davanti alla finestra spalancato ho fatto un saluto al sole, il sole mi ha schifato e la nuvola di Fantozzi mi ha salvato, ha salvato lui dalla visione del mio corpo che riabbracciava l'aperto in mutande. Che brutta immagine Amos gli ho detto. Per fartela breve sono uscito fischiettando anche se il fischio usciva smorzato dalla mia doppia maschera FFP3. Mi tornava tutto in faccia sotto forma di sputo, quando si dice sputare contro il cielo. L'FFP2 è peggio, lì non passa niente, se vuoi puoi goderti l'esperienza di sputarti in faccia, basta che fischi o canti alla Pavarotti o imprechi nella mascherina contro il prossimo. Ecco a proposito di imprecare contro il farabutto di cui la madre è sempre incinta, mi sono diretto verso il parco solari, arzillo come uno scugnizzo dei quartieri spagnoli, senza neanche la finzione della borsa della spesa, e facendo il gesto dell'ombrello a tutte le pattuglie in divisa accampate anche loro a prendere il sole, eccalà, eccalà, non ti vedo la mammona col bimbo in carrozzella che sputa ordini contro il bimbo frignante senza mascherina né lui né lei, e poi un pensionato con la mascherina infilata al collo come una giarretiera, due runner a bocca spalancata che corrono e ruttano, la padrona del cane che lascia il bimbino attirare la mascherina della bimbina per vedere cosa c'è sotto, e quell'altra sciura che guarda tutti in cagnesco come appestate e intanto si slinguazza sulla panchina il labrador che la ricambia alla francese. Stavo andando dall'unico carabiniere vivente del parco per dirgli che di questo passo la fase 2 sarebbe diventata per tutti la bara 3, ma il brigadiere si stava asciugando il sudore con la mascherina chirurgica che gli faceva sulla faccia la figura di un slip da casa di tolleranza, insomma, 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 porco di quel parco, c'era venuto apposta per festeggiare il 4 maggio, e non vedo lì all'improvviso su due pattini a rutelle due persone che si scontrano come sulla pista del cervino e poi si alzano da terra abbracciandosi con pacche sulle spalle come vecchi compagnoni maledetti figli di matrone incerta. Dai, Amos, evitato, abbia un po' di tolleranza, la gente non si godeva il sole da troppo tempo, glielo faccio godere io il sole, con supposta incorporata, pronta di bacillo per l'imbecillo. Cosa? Me ne sono tornato a casa e mi sono disegnato a pennarello nerissimo sulla t-shirt bianca, davanti e dietro, fresco di tampone positivo, e poi sotto avvicinatevi a cattataville, ovviamente intendendo la maglietta e magari anche il tampone come gadget. Ma tu non sei normale, gli ho detto Amos, e come è andato a finire? Ah, benissimo fratello, quando sono riapparso al parco solari ho dovuto traccheggiare un po' per farmi notare, poi il primo urlo è partito da un poveraccio che mi chiedeva la lemosina, con una mascherina appucciata nel fango. Dopodiché è stato tutto semplice, un fuggifuggi, mezzo parco era diventato mio, mi potevo anche stendere sulla panchina solitaria e farmi una pennica senza che neanche i labrador mi fiutassero e mi baciassero la francese. E poi però ho dovuto alzarmi dalla panchina. E perché Amos? Primo perché se stavo sdraiato non si notava più la scritta fronte-retro sulla mia maglietta. Secondo perché a trenta passi c'era il brigadire dei carabinieri, appoggiato alla volante, che si era appena rimesso alla mascherina e mi stava guardando.